Buongiorno, sono Emilia Martino, sono qui nella mia azienda di 92 ettari, sita in rotello. Come potete ben vedere c'è una costante ventilazione che aiuta l'agricoltura biologica, in quanto le piante si ammalano di meno. Utilizzo concimi biodegradabili ed ecosostenibili, proprio per dare alla terra di nuovo la sua dignità. Io la classifico così la mia coltivazione. In un campo di pomodoro, ad esempio, ho il prodotto 40.000 piantine, io ho il 50%, proprio per dare la possibilità alle piante di crescere in un ambiente salutare. Coltivo anche cereali, legumi, parte di frutteto e oniveto. Alcuni prodotti li trasformo nel mio laboratorio, il canestro bio di Campobasso. Entriamo nel negozio, il canestro bio, Emilia Martino. Salve a tutti, ecco qui, siamo qui al canestro bio, dove è il mio punto vendita, dietro c'è il laboratorio e tutto ciò che vedete è tutto prodotto dalla mia azienda. Quindi dalle confetture di zucca, mela cotogna, ciliegge, amarene, alla pasta, ecco perché io trasformo i grani. Grazie. Grazie.